Assessore, intanto un'opinione su questo cambio di nome, formalità ma magari anche un cambiamento sostanziale, sicurezza energetica, che vorrà dire secondo lei? Ho visto che nelle deleghe ci sono molti richiami all'autosufficienza, molti richiami al sovranismo e quindi probabilmente questo è uno dei temi che il governo ha voglia di affrontare con una forte connotazione politica. Ora, io esprimo qualche perplessità perché è vero che il tema è quello dell'autosufficienza, su questo non vi è dubbio, però certamente non può essere quello dell'autosufficienza attraverso il gas perché questo non ci renderà mai davvero autosufficienti. Vuol dire spostare la propria dipendenza da un paese scarsamente democratico ad altri paesi altrettanto scarsamente democratici. Ora è presto per esprimere i giudizi, questo è un governo che anche nelle deleghe ha fatto riferimento al merito e quindi li valuteremo ovviamente nel merito e bisogna dargli tempo per lavorare. È chiaro che riferirsi soltanto all'autosufficienza senza rafforzare il concetto di transizione e quindi senza rafforzare la necessità di raggiungere l'autosufficienza con le fonti energetiche che abbiamo, che sono quelle rinnovabili, un po' ci preoccupa. È una garanzia la continuità con la presenza dell'ex ministro Cingolani, quale advisor non retribuito nel governo? È un altro elemento che mi fa preoccupare perché Cingolani rimane per fare da consulente rispetto all'autonomia energetica riferita al gas, ha fatto un enorme lavoro da questo punto di vista. È un lavoro che deve giustamente avere continuità perché è quello che nell'immediato interessa al Paese per dare sollievo a famiglie e imprese in un inverno che sarà un inverno difficile, però certamente non ci rassicura rispetto alla prospettiva che è quella appunto dell'autosufficienza attraverso la transizione ecologica.